Guardate tutti insieme com'è la seconda riunione strategica, visto che facciamo la modalità storia di Marvel contro Capcom Infinity. Siamo nella torre dei Vendicatori. Sarebbe potuto andare peggio. Anche noi siamo stati esposti. Il dottor Light conferma, ha identificato delle tracce del virus in tutti i nostri sistemi, sintetici o organici che siano. E poi quanto tempo abbiamo? È difficile dirlo. Giorni se non ore. Dobbiamo distruggere Ultron Sigma. Proviamoci. Dobbiamo tentare. Noi abbiamo combattuto bene, con onore. Nessuno oserebbe mai chiederci di più. Tu devi farlo, Capitano Amelia. Ultron Sigma possiede due delle sei gemme dell'infinito. Noi ne abbiamo tre, ma per fermare Ultron Sigma e debellare il virus ce ne serve una quarta. Abbiamo bisogno della gemma dell'anima. Purtroppo Jedi è tornato nel regno oscuro, portando in sé la gemma dell'anima. La sua mente è smarrita, corrotta dalle gemme. E Morrigan non può più raggiungerlo. Ah, te ne occuperai te, Dante? Ma ne sei sicuro? Tu sei un cacciatore di demoni, Dante. Vabbè, anche se riuscissimo a recuperare la quarta gemma, vediamo se ce la facciamo. Il dispositivo è andato, il reattore della torre si è fuso. Facci piano con quei paroloni tecnici, Iron Man. Solo la tecnologia di Abel City può salvarci. No, 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 no. E Abel City è stata distrutta quando i due universi sono fusi. Fu l'epicentro della convergenza, Abel City. Il laboratorio di Sigma è ancora in piedi. E così si fa una missione suicida dietro le linee nemiche. Non abbiamo altra scelta. Faremo una visita oltre un Sigma. Lo terremo occupato. L'ultima volta ce la siamo cavata per poco. Ma questa volta è diverso. La gemma della realtà si è inclinata. Ma non siamo soli. Dobbiamo tentare. Dobbiamo colpire adesso prima che possa ripararsi Ultron Sigma e prima che il virus ci consumi tutti. Dobbiamo provarci. Dipende tutto da noi. Dalla gemma dell'anima e al dispositivo. Noi siamo fantastici. Fico. Che Dio ci aiuti. Non abbassare mai la guardia con quel tipaccio, Gamora. Nemmeno per un secondo. Sul serio. Fai come ti ha detto Roque. Fai solo attenzione, Gamora. Finalmente insieme X e Zero. Bene, vi saluto. Mettete un'efficacia e iscrivetevi al canale. Siamo quasi arrivati alla fine. Ma non si sa come finirà questa storia di Marvel contro Capcom Infinity.